Salve a tutti, oggi voglio fare un nuovo video sempre sulla Sicilia, tanto per cambiare. Dottomi scuso per la capigliatura dovuta al confinamento da coronavirus. Allora il video tratterà i personaggi illustri che abbiamo avuto in Sicilia dall'epoca greca, quindi dal VII-VI secolo a.C. fino ad oggi. E sono veramente tanti, infatti non è stato facile fare questo video perché ho dovuto studiare per tanti giorni e ho dovuto fare una selezione a malincuore, infatti ho dovuto lasciare fuori tantissimi altri personaggi illustri che hanno fatto la storia del mondo anche a loro. Comunque alla fine ho messo dentro, vedrete personaggi di ogni genere, infatti ci sono medici, filosofi, storici, pittori, architetti, ma anche uno schiavo, pensate che anche lui ha fatto la storia del mondo. E insomma c'è poco altro da aggiungere, vi auguro una buona visione. Lo splendore culturale della Sicilia greca si manifestò con dei personaggi eccezionali che ancora oggi tutti ammiriamo. Andiamoli a vedere. Epicarmo da Siracusa, che inventò la commedia, un nuovo genere letterario e teatrale. Lui in realtà pare che nacque a Megareblea, ma poi visse a Siracusa, dove probabilmente venendo a contatto con Eschilo, fece la parodia del suo stile e dei suoi temi, soprattutto nella commedia I Persiani. Ma a lui sono attribuite più di 40 commedie. Siracusani erano anche Kimon ed Ewanethos, gli artisti che coniarono i famosi decadrammi, che i numismatici considerano le più belle monete mai coniate al mondo. Loro sono, tra i pochi incisori antichi, di cui si conosce il nome, perché hanno firmato le monete. Queste monete sono un'opera d'arte. La rappresentazione della quadrica e della testa di Aretusa, simbolo di Siracusa, è resa nei minimi dettagli. Acrone da Grigento, che nel VI secolo a.C. creò la medicina empirica basata sull'esperienza e non sulla filosofia. Erotico da Lentini fu invece il primo medico a sostenere il valore terapeutico della ginnastica. Era infatti seguace della ginnastica medica, la moderna aerobica. Fu anche maestro di Ippocrate, considerato il padre della medicina. Poi ancora abbiamo Evemero da Messina, il filosofo che affermò l'origine umana degli dèi e fu poi imitato dal poeta latino Ennio nell'opera intitolata Evemerus. L'architetto, feace da Grigento, grazie ai suoi studi sull'idrotecnica, lui fu il creatore del sistema fognario. E ancora oggi ad Agrigento, possiamo ammirare l'Agrigento sotterranea con delle opere di canalizzazione veramente ammirevoli. Ma lui fu anche il costruttore, nella sua città di Agragas, del gigantesco tempio di Zeus, che ancora oggi possiamo ammirare parte delle rovine di questo tempio, che è stato il più grande tempio dell'Occidente. Poi ancora abbiamo Stesicoro da Imera, che fu maestro nella poesia corale, e dai critici antichi fu paragonato ad Omero, e per primo cantò la leggenda dei fratelli Pii di Catania, che salvarono i vecchi genitori dalle fiamme dell'Ettina, e che poi Virgilio trasformò nella leggenda nazionale romana del Pio Enea, nell'Eneide. Teocrito da Siracusa, il raffinato poeta bucolico che il Vigilio considerò suo maestro. Lo storico Timeo da Taormina, che per primo indicò la cronologia degli avvenimenti, ancorandoli al computo delle Olimpiadi. Empedocle da Agrigento, il filosofo che per primo concepì l'idea trascendente di Dio, anticipando di secoli il pensiero di Spinosa. Il legislatore Caronda da Catania, del V secolo a.C., le cui buone leggi furono adottate anche da lontane città greche, come Mazzaca in Cappadocia, e furono lodate da Aristotele e da Cicerone. Archestrato da Gela, questa sorta di poco scrittore, qui dobbiamo un libro che ancora oggi è molto ammirato, l'Edupatea, cioè il primo trattato di gastronomia del mondo. E ancora, Gorgia Dalentini, che fu discepolo dell'Abigentino Empedocle, è considerato uno dei maggiori sofisti e uno dei padri della filosofia, perché veramente contribuì alla nascita della filosofia, ha scritto molti testi, nel suo encomio, Gorgia difende Elena dall'accusa di essere stata causa della guerra di Troia. Poi su tutti, nel periodo greco, gigandeggia un genio, il genio scientifico di Archimede da Siracusa, che ha meritato di essere definito uno dei più grandi geni di tutti i secoli, perché per primo stabilì il valore del pi greco in matematica. Per primo misurò l'aria di un segmento parabolico e ne eseguì la quadratura. Trovò il suo celebre principio, in base al quale le navi navigano e gli aerei volano. Inventò la spirale geometrica e la coclea, la macchina per il sollevamento dell'acqua, tuttora adoperata in Egitto e nelle saline del Trapanese, in Sicilia. Per primo intuì le regole del calcolo infinitesimale, e per difendere la sua Siracusa assediata dai romani, inventò macchine talmente straordinarie che, per testimonianza degli storici antichi, i romani credevano di combattere con degli dèi e no con degli uomini. E fu anche per questo che la guerra tra Roma e Siracusa durò più di due anni. Passiamo adesso all'epoca romana. I romani, grazie alla conquista della Sicilia, conobbero l'arte nella civiltà greca, e l'isola divenne anche il granaio di Roma. Prima di parlarvi di qualche personaggio siciliano di quell'epoca, però vediamo cosa dissero due romani illustri sulla Sicilia. Catoni, ad esempio, quando a Roma arrivò la notizia della presa di Siracusa, al Senato fece un discorso e disse che la presa di Siracusa sarebbe stata una calamità, perché dopo l'arrivo a Roma del bottino di guerra, i romani non avrebbero più pensato all'arte della guerra o all'arte di lavorare ai campi, ma semplicemente all'arte. E ancora Cicerone, nella sua ringa controverre, che depredò le città siciliane, disse ai giudici, Avete sempre sentito dire che la città di Siracusa sia la più grande e la più bella delle città greche, e o giudici, proprio come dicono. Del periodo romano, per motivi di sintesi narrativa, ho scelto solo due personaggi siciliani di quell'epoca, che però sono agli antipodi, infatti uno è uno storico e uno è uno schiavo. Allora, iniziamo con lo storico di Odoro Siculo da Agira, che è stato uno dei più grandi storici di sempre, e tutt'oggi è un punto di riferimento per gli storici moderni. Fu infatti l'autore di una monumentale storia universale, intitolata La Biblioteca e Storia, scritta anche grazie ai suoi lunghi viaggi in Europa e in Asia. Diete un contributo notevole alla cultura romana. Proprio Diodoro Siculo ci ha tramandato tantissime storie, tra cui quella dello schiavo e uno di Enna. Le avventure di questo schiavo e uno sono veramente avventure da film, che precedono tra l'altro di molto quelle di Spartaco. Infatti e uno era uno schiavo siciliano che guidò la prima guerra servile, cioè la prima rivolta degli schiavi della storia romana, che scoppiò nella città di Enna, nel 136 avanti Cristo. Per qualche anno fondarono una sorta di staterello questi schiavi, nella Sicilia centrale con Enna capitale, e lui divenne re di un esercito di schiavi di circa 200.000 uomini, esasperati dalle condizioni umane in cui lavoravano. Le sue gesta, qualche anno dopo, ispirarono anche la seconda guerra servile, sempre in Sicilia, nel 102 avanti Cristo, e poi quella di Spartaco in Campania, nel 73 avanti Cristo. Passiamo adesso all'avvento del cristianesimo. In Sicilia dovete sapere che ci fu la prima sede europea della nuova religione cristiana. Infatti c'è una scritta che ricorda questo evento nell'odierna cattedrale di Siracusa, dove appunto a Siracusa si costruì la prima chiesa in Europa. Inoltre la Sicilia cristiana comunque diede tantissimi martiri alla nuova fede. Su tutti voglio ricordare due sante ancora oggi molto venerate. Sempre a Siracusa abbiamo Santa Lucia, la festa del 13 dicembre, mentre a Catania abbiamo Santa Agata, la festa si svolge tra il 3 e il 5 febbraio, ed è la terza festa religiosa più grande al mondo. Entrambe le due sante, Agata e Lucia, sono nominate nel canone della messa. Oltre a numerosi santi, a martiri, a beati, a missionari, la Sicilia poi nel periodo bizantino ha dato alla chiesa ben cinque papi. Adesso giriamo la clessidra e parliamo della Sicilia araba. Gli arabi dominarono la Sicilia dall'827 al 1060, conquistandola gradualmente. È incommensurabile l'apporto dato dagli arabi allo sviluppo economico e civile della Sicilia. Essi infatti rivoluzionarono la produzione agricola, ma anche dal punto di vista culturale la presenza araba fu molto proficua, perché la cultura si freggiò di nomi di poeti e noti ancora oggi. Su tutti spiccò sicuramente i bni amdissi. Lui era di Siracusa e visse tra Siracusa, è noto una volta qua, una volta là. Lui però quando arrivarono i normanni diventò esule perché fu praticamente dovette abbandonare l'isola a causa dell'invasione normanna, ma lasciò in Sicilia moglie, figli e amici. Quindi trovò per la terra natia delle parole d'amore e di nostalgia veramente commoventi. Ad esempio a me piacciono questi versi Io anelo alla mia terra, come nelle tenebre, anela al suo paese natio un vecchio cammello smarrito nel deserto. Adesso facciamo ancora un altro giro di Clessidra e arriviamo alla Sicilia normanna, questo splendido periodo. Infatti con i normanni la Sicilia si freggiò di uomini illustri e di monumenti insigni che ancora oggi noi tutti ammiriamo. Grazie soprattutto ad alcuni re molto illuminati, veramente su tutti dobbiamo ricordare Ruggero II che fondò nel 1130 il regno di Sicilia con capitale Palermo. Istituì il primo Parlamento d'Europa e la sua corte era frequentata da grandi studiosi del tempo che provenivano da tutto il mondo, dall'Europa, dall'Asia, dall'Africa, arabi, ebrei, latini, greci, di tutto c'era. Soprattutto dobbiamo ricordare Alidrisi, l'arabo Alidrisi, che scrisse il libro di re Ruggero, una descrizione minuziosa della Sicilia e di tutte le terre emerse che lui girò appositamente per il re Ruggero. Ma poi questa corte di re Ruggero a Palermo era frequentata da alcuni studiosi siciliani che traducevano testi di greci del tempo, sono stati i primi a tradurre dei libri greci importantissimi in latino, in Europa i primi sono stati. E quindi dobbiamo ricordare il grecista palermitano Eugenio che lui tradusse l'ottica di Tolomeo dal greco al latino, poi sempre il grecista catanese Enrico Aristippo che tradusse le vite dei filosofi di Diogene, l'Aerzio, l'astronomia di Tolomeo, la meteorologia di Aristotele, nonché importanti dialoghi di Platone e fu chiamato il Grecus Interpres per eccellenza dal dottio inclese Giovanni di Salisburi. Dopo i normanni abbiamo la dominazione Sveva in Sicilia, con gli Svevi abbiamo avuto un altro grandissimo re del regno che fu Federico II di Svevia che meritò di essere chiamato dai suoi contemporanei la meraviglia del mondo, Stupor Mundi, dalla sua straordinaria cultura linguistica, filosofica, scientifica e astrologica. Lui stesso infatti scrisse anche avvalendosi di altri studiosi un libro che ancora oggi viene molto studiato e molto interessante, è un trattato scientifico sulla caccia col falcone, perché lui andava a caccia col falcone, che era una pratica a cui si dedicavano solamente i ricchi dell'epoca. Questo libro si chiama il Dearte Venandi Cumavibus. Ma comunque la sua corte era veramente un gruggiolo di ricchezza culturale. Per esplicita testimonianza di Dante e di Petrarca, alla sua corte di Palermo nacque la letteratura italiana con la scuola poetica siciliana. Tra tutti si contraddistingue, si contraddistinze in questa corte siciliana soprattutto Jacopo Dallentini, che è considerato l'ideatore del sonetto e uno dei padri della lingua italiana. Allora, dell'epoca spagnola, voglio intanto ricordare due grandissimi storici. Il primo, Michele da Piazza, un cronista che nella sua cronica fu il primo a descrivere la peste nera che desolò la Sicilia e l'Europa nel 1348 e che fa da sfondo al Decameron di Boccaccio e al canzoniere di Petrarca. Puoi come non ricordare il grandissimo Tommaso Fazzello da Sciacca, un frate dominicano molto colto, conosciuto per essere stato il padre della storia siciliana, scritta nel suo Derrebus Siculis. Per scrivere questo libro, lui stesso girò tutta l'isola descrivendo tutti i posti che visitò. Quindi il suo libro divenne una sorta di guida turistica per i viaggiatori colti nord-europei che erano inglesi, francesi, tedeschi, che da 600 all'800 compivano il Grand Tour nel sud Italia e l'ultima tappa, quella più importante, era appunto la Sicilia dove venivano per riscoprire i monumenti dell'epoca classica, quindi i monumenti greci e romani. Tutti questi viaggiatori viaggiavano con il libro del Fazzello in tasca. Ora, per quanto riguarda l'arte, come non ricordare il grandissimo Antonello da Messina, un artista di tutto il rinascimento italiano, tanti sono i capolavori che lui ci ha lasciati. La sua pittura, già all'epoca, ha addestato un coro generale di lodi su tutti il critico italiano Lionello Venturi, nel suo Le origini della pittura veneziana, ha fatto notare come Antonello, tre decenni prima che il 400 finisse, abbia saputo meravigliosamente fondere gli indirizzi delle più grandi scuole di pittura dell'Europa, quella toscana e quella fiamminga. Poi, come non parlare di un altro pittore che operò tantissimo in Sicilia, Pietro Novelli da Monreale, lui è stato il più importante e influente artista del 600 in Sicilia, infatti fu anche nominato architetto del regno. Tra i tantissimi quadri che ci ha lasciato, qui voglio ricordare Santa Rosalia, che proviene dalla chiesa, appunto, da una chiesa di Palermo, Caino e Abele, e San Pietro liberato dal carcere, che proviene invece dalla chiesa di San Pietro, sempre di Palermo. Un altro grande pittore siciliano del 600 fu sicuramente Mario Minniti da Siracusa. Lui fu grande amico e poi seguace del Caravaggio, infatti sono cresciuti insieme in una bottega di Roma. Poi lui ospitò Caravaggio stesso a Siracusa per un paio di mesi nel 1608, dopo che Caravaggio scappò da Malta, e in quell'occasione Caravaggio ci ha lasciato anche un quadro, il seppellimento di Santa Lucia. A cavallo tra il 600 e il 700 abbiamo avuto un altro grandissimo artista, Giacomo Serpotta, uno scultore insuperabile nell'arte dello stucco, cui si devono mirabili opere, come i putti dell'oratorio di Santa Zita a Palermo. Un altro grandissimo artista del barocco siciliano fu sicuramente Rosario Gagliardi di Noto, un grandissimo architetto, creatore e protagonista indiscusso della scenografica ricostruzione barocca del Val di Noto, a seguito del terremoto del 1693, ci ha lasciato delle bellissime chiese, soprattutto a Modica, Ragusa, Ibla e Noto, che oggi fanno parte del patrimonio mondiale dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. Un altro tra i migliori ingegni siciliani del 700 fu anche l'architetto messinese Filippo Iuara, chiamato in Piemonte dai Savoia, che arricchì Torino di splendidi monumenti, quale la Basilica di Superga e il Castello di Caccia di Stupinigi. Mentre dal punto di vista politico, nel 1860 un ruolo rilevante per la rivoluzione unitaria d'Italia ebbe Francesco Crispi da Ribella, che al capo dei rivoltosi siciliani fece capire a Garibaldi che era venuto il momento di agire, anche se poi l'unità d'Italia si rivelò presto una delusione per i siciliani. Alla fine dell'Ottocento, poi come non ricordare il grandissimo musicista catanese Vincenzo Bellini, lui è stato un grandissimo compositore tra i più celebri operisti europei dell'Ottocento. È considerato con Gioacchino Rossineg e Gaetano Donizetti il compositore per l'antonomasia dell'era del bel canto italiano, in particolare del XIX secolo. Bellini fu autore di dieci opere liriche in tutto, delle quali le più famose rappresentate sono la Sonnambula, la Norma e i Puritani. Purtroppo morì giovanissimo, nemmeno 40 anni aveva e oggi è sepolto nella cattedrale di Catania. Dopo l'unità d'Italia, tra l'Ottocento e il Novecento abbiamo avuto poi dei grandissimi scrittori che ancora oggi tutti apprezzano per i loro romanzi. Molti sono stati i padri del verismo italiano e molti loro libri, romanzi sono diventati dei film famosi in tutto il mondo. Ecco chi sono Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico del Roberto, Elio Vittorini, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia e senza dimenticare i due grandissimi premi Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello e Salvatore Quasimodo. Infine, come non ricordare Andrea Camilleri a cui va un mio complimento personale, è molto speciale perché ha portato lustro alla Sicilia con le sue opere, i suoi romanzi, su tutto il Commissario Montalbano, romanzo da cui è stata tratta la fortunata serie televisiva famosa in tutto il mondo e che a tanti turisti fa arrivare in Sicilia. Mentre nel 1988 un prestigioso riconoscimento internazionale è andato all'allora giovane regista cinematografico Giuseppe Tornatore, siciliano di bagheria per il suo film di ambiente siciliano Nuovo Cinema Paradiso girato in Sicilia con attori quasi tutti siciliani tra cui il bravissimo bambino Salvatore Cascio. A lui quindi venne conferito negli Stati Uniti l'ambito riconoscimento dell'Oscar per il migliore film straniero che era onore che non toccava all'Italia dal 1974 quando fu premiato la Marcord di Federico Fellini. Infine voglio finire questo video sui personaggi illustri siciliani nominando due grandissimi giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che grazie al loro operato grande lavoro veramente con passione e con diligenza hanno fatto tanto per sconviggere una piaga come la mafia. Ed ecco cosa hanno fatto i nostri cari siciliani nel corso della storia hanno veramente dato un contributo notevole a tutta l'umanità intera. Ci tenevo a sottolineare ancora una volta che ho lasciato fuori da questo video tantissimi altri siciliani illustri che meritavano anche loro di essere in questo video. Mi dispiace aver messo pochissime donne solo due se non sbaglio Santa Lucia e Sant'Acata ma anche in Sicilia abbiamo avuto delle donne veramente molto interessanti che anche loro hanno contribuito alla storia dell'umanità. Magari chissà qualche volta farò un video dedicato solamente alle donne importanti della Sicilia. Poi ci tenevo a sottolineare anche che per fare questo video ho preso spunto da tanti libri anche da fonti online ma soprattutto il libro di Santi Correnti di questo grande storico siciliano di riposto e soprattutto vi consiglio un suo libro Breve storia della Sicilia se volete un po' addentrarvi appunto nella storia siciliana e ringrazio anche mio padre perché questo libro l'ho editato da lui che l'ho acquisto lui all'epoca. Detto ciò vi saluto e enjoy Sicily. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.